In classe si insegna contemporaneamente in italiano e in inglese con la presenza di due maestre madrelingua, l'approccio è internazionale. Inaugurata in via delle fonti la scuola Arts Genius, il primo istituto bilingue della città. Ha aperto a giugno per i corsi estivi e da settembre è iniziato il primo anno sperimentale con una classe dell'infanzia e due della primaria per un totale di 25 bambini. Dall'anno prossimo diventerà un istituto paritario e in attesa delle iscrizioni che partiranno a gennaio ci sono state tante adesioni da organizzare già tre aule per la materna e tre per la primaria. I soci fondatori sono Paolo Malpaganti e Cristina Che che nel 2016 hanno aperto un'associazione culturale al soccorso dove hanno organizzato corsi di musica, danza e sport per il doposcuola dei bambini. La particolarità è proprio quella dell'insegnamento bilingue e abbiamo due insegnanti per classe quindi l'insegnante madrelingua italiana e madrelingua inglese e quindi poi da lì non si fermerà solo alla primaria ma proseguiremo anche alle medie, alle superiori e poi molto probabilmente anche una scuola internazionale. Partendo fin da piccoli, dai tre anni a imparare a utilizzare i due canali comunicativi, l'inglese, l'italiano e poi successivamente anche il cinese, abbiamo la possibilità intanto di entrare in contatto con culture che normalmente non conosciamo se non vedendola alla televisione o per sentito dire. E poi abbiamo anche la possibilità di ragionare su tematiche con una mentalità forse diversa rispetto a quella che comunemente si incontra. La scuola ha anche un direttore artistico Paolo Fissi che coordina i vari corsi di musica. Sono stato chiamato appunto per coordinare tutto ciò che riguarda l'arte, soprattutto la musica visto che io sono musicista, fra l'altro ho portato qui anche il mio coro e quindi facciamo le prove qui. Con il coro sarebbe un grosso progetto riuscire a fare un coro multietnico che radunasse non solo la comunità italiana ma anche la comunità cinese. L'istituto nasce dalla riqualificazione dell'ex officine Bigagli in un'area di oltre 3.300 metri quadrati abbandonata da anni. Questo era un luogo fra l'altro che qualche anno fa ci aveva dato anche un problema di gestione dell'amianto che era sul tetto, dove abbiamo dovuto fare un intervento urgente. Adesso tutta quest'area è stata completamente riqualificata dal punto di vista urbanistico, una scuola qui dove siamo ora.